Un deposito illegale di materiale in cemento è stato scoperto dal corpo forestale all'interno dell'ex cava di via Cavico a Rossano. Un responsabile della Biasuzzi Cava e la ditta che è in gestione l'area è stato denunciato per la violazione del testo unico ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Il sito interessato è stato posto sotto sequestro. Io mi sento di rassicurare i miei concittadini che non c'è un pericolo ambientale di inquinamento nel modo più assoluto. Non si tratta di una discarica abusiva ma di un luogo che abusivamente è stato utilizzato dalla ditta per un deposito che non doveva esserci. Questioni terminologiche a parte, la questione dell'ex cava si trascina da anni senza che comune e provincia riescono a portarla a conclusione. Il materiale stoccato illegalmente non è poco ma neppure così tanto come trappelato da alcune imprecise notizie di stampa, dichiara il sindaco di Rossano Morena Martini. Si è parlato di 6.000 metri cubi corrispondenti al carico di 300 auto articolati. Le reali quantità sono di circa 50 volte inferiori. Al comune aspetta ora il compito di disporre l'immediata rimozione e smaltimento del materiale a carico della ditta e di sorvegliare sul corretto svolgimento delle operazioni. Domani firmerò l'ordinanza così come scritto e prescritto dagli enti che ci hanno appunto avvisato e il comune che ha sempre avuto la massima disponibilità ed ha accompagnato nei vari processi di vigilanza i tecnici della forestale che sono venuti appunto ad indagare, quel comune avrà appunto l'obbligo di sorvegliare e di fare in modo che le cose vengano ripristinate. Con l'ordinanza loro hanno l'obbligo di ripristino. Chiederanno alla procura chiaramente di entrare perché in questo momento è l'area sotto sequestro e procederanno con il ripristino dello stato dei luoghi. Tempi ipotizzabili per questa operazione? Noi daremo 90 giorni nell'ordinanza dopodiché loro si muoveranno sicuramente in maniera celere.